Un caloroso saluto a tutti. Qui è Lorenzo Grandi che vi parla, proprietario del sito benessereipnosi.com. Per ottenere benefici, questi audio vanno ascoltati tre volte al giorno, tutti i giorni. Se vuoi scoprire di più e ancora non hai letto l'articolo, clicca nel link che trovi in descrizione o nella i in alto a destra. Inoltre, troverai tutte le informazioni necessarie e link ad altri audio simili a questo. Preghiera. Giornata meravigliosa e nuova per me. Ripeti mentalmente o a voce alta. L'universo mi aiuta a prendermi cura della mia vita. Tutte le cose lavoreranno bene per me. durante tutto il giorno. Questa è una giornata meravigliosa e nuova per me. non ci sarà più un altro giorno come questo. L'amore divino mi circonda, mi riempie e avanzerò in pace. Quando la mia attenzione si allontana dalle cose buone e costruttive, immediatamente la farò ritornare alle cose belle e utili. Sono una calamita che attrae tutte le cose buone per la mia benedizione e prosperità. Oggi avrò successo in tutto quello che faccio. Oggi prometto di essere felice. L'universo mi aiuta a prendermi cura della mia vita. Tutte le cose lavoreranno bene per me durante tutto il giorno. Questa è una giornata meravigliosa e nuova per me. Non ci sarà più un altro giorno come questo. L'amore divino mi circonda, mi riempie e avanzerò in pace. Quando la mia attenzione si allontana dalle cose buone e costruttive, immediatamente la farò ritornare alle cose belle e utili. Sono una calamita che attrae tutte le cose buone per la mia benedizione e prosperità. Oggi avrò successo in tutto quello che faccio. Oggi prometto di essere felice.